Ieri in riunione con i sales manager parlavamo del fatto che anche in passato prendevamo incarichi a distanza con i clienti e li prendevamo solamente al telefono. Alcuni sostenevano che si può usare solo il telefono, ma un sistema di videoconferenza ha molti vantaggi. Ti mette nelle condizioni di farti vedere dalla persona, ti mette nelle condizioni di farti conoscere e te puoi conoscere la persona e conoscere le sue emozioni ed espressioni. Da lì in me è nata una riflessione che oggettivamente ognuno di noi ha dei preconcetti. Abbiamo dei preconcetti rispetto ai luoghi, rispetto alle persone, rispetto alle nuove attività. È insito in ognuno di noi come atteggiamento, ma molto spesso avendo dei preconcetti ci perdiamo l'opportunità di scoprire delle nuove passioni, delle nuove attività, dei nuovi modi di continuare a fare il mio lavoro, magari aggiungendo delle attività che magari esalteranno ancora di più le mie competenze. Pochi ci provano finché non sono costretti, ma non saprai mai cosa sai fare fino a che non ci provi. Io resto produttivo.